Ragazzi, indovinate un po'? Quando se la passo in tv, diventerò un personaggio strafamoso! Anche Hitler era strafamoso! Salve, ragazzuoli! Ciao, chef! Come stanno oggi i miei piccoli cracker? Ben! Avete sentito la notizia? Katelyn Gifford verrà qui da noi a South Park! Sì, perché Cartman ha imbrogliato e ha vinto il concorso sull'ambiente! Ehi! Sì, sì, comunque sia, il sindaco mi ha convocato e mi ha chiesto di cantare una canzone alla cerimonia! Wow, e tu lo farai? Ma certo, Katelyn è una stupenda, focosa regina di fantasie sessuali! E se canto per lei, forse potrò trascinarla a trascorrere una notte di delizie indescrivibili! Sì, sarebbe una ficata! Comunque il mio è tre volte più grande di quello di Frank Gifford!